allora era già un po che vi si preannunciava magari parlavo con the threat layer e volevamo fare un qualcosa tutti assieme come community quindi non solo legato al portafoglio cripto che diciamo che si è gestito da tutti noi però cioè attivamente poi faccio le cose io no quindi sarebbe stato carino fare un qualcosa quindi diciamo un gioco che potesse andare a coinvolgere tutti tutti noi ok tutti noi assieme ho deciso di portare appunto questo gioco allora cripto heroes sostanzialmente è un gioco che è su piattaforma noku ok quindi piattaforma noku che è diciamo una 600 di ethereum diciamo che è sostanzialmente totalmente gratuita praticamente perché si paga veramente niente per quanto riguarda il gioco sostanzialmente vengono sono stati creati delle carte come nft e ogni carta sostanzialmente ha dei valori noi praticamente dobbiamo fare per i vari tornei che poi adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo in questo momento sostanzialmente andiamo a posizionare le nostre carte in previsione di quello che succederà ok adesso ovviamente che detta così sembra una cazzata però ovviamente poi vi dovrò far capire bene le tempistiche del gioco come viene gestito e quant'altro allora partiamo subito un attimino con il tutorialone e poi andiamo a vedere realmente il gioco così vi faccio vedere le carte quant'altro allora sostanzialmente inizio a giocare a crypto heroes e guadagna divertendoti allora allora getting started quindi iniziamo allora bisogna schierare 12 carte che si selezionano sostanzialmente dalla propria collezione ci sono due carte obbligatorie a che sono le carte antagoniste ovviamente poi andiamo a vedere bene non si possono utilizzare doppie carte la somma del peso di ogni carta sostanzialmente quindi la somma di tutte le carte non può superare i 1200 punti e poi poi ovviamente sul sul sito quindi sulla piattaforma c'è anche poi diciamo il l'andamento di mercato delle varie crypto e sostanzialmente il gioco diciamo che si differenzia in due una ovviamente parliamo presupposto che bisogna avere ovviamente un po di carte però o si gioca short oppure non si gioca short ok se si gioca short ovviamente il gioco un attimino cambia quindi strategicamente si possono gestire le cose in un'altra maniera altrimenti si giocheranno altre tipologie di carte insomma comunque andremo poi a a vedere con precisione poi scendiamo giù allora sostanzialmente questo qua un esempio di carta che è la carta di vitalik allora qua allora la soluzione m è il tipo di carta quindi in questo caso noi abbiamo una carta master oppure ci sono le carte influencer ci sono le carte normali delle crypto ci sono le carte jolly e poi le carte antagoniste no e poi c'è anche quella mi sembra tecnologia se non ricordo male adesso non ricordo bene come come si chiama comunque allora qua noi vediamo il simbolo di ethereum vuol dire che la base su cui poi ci sarà eventuale moltiplicatore o quant'altro sarà ethereum quindi l'andamento quindi la performance come dice qua della crypto di riferimento che in questo caso è ethereum vitalik ci dà un moltiplicatore che è due per quindi è due per l'andamento di ethereum ok questo qua è il peso di cui parlavamo prima ok che è un peso tra l'altro molto alto 180 e quindi questo qua è come andiamo noi a gestire le le carte ragazzi ovviamente esatto da pc da pc da da cellulare non l'hanno ancora non l'hanno fatto responsive ma comunque non l'hanno ancora fatto non ancora fatto un'app io non ci ho ancora parlato con roberto volini però presumo che sia una cosa che vorranno fare nel futuro ecco insomma con quanto meno questo quello che mi posso immaginare io poi andiamo sotto adesso cerchiamo di farla molto veloce perché in realtà non è che poi tutorial è importante per capire i concetti base allora vabbè queste qua sopra sono le info sul torneo che potremmo vedere che non ci cambiano molto queste qua sono tutte le carte sostanzialmente che che abbiamo noi poi poi si possono filtrare per tipologia di di carta qua in alto però insomma anche li vedremo allora poi il mazzo sostanzialmente che si sta creando per il torneo quindi si fa sul current deck ovviamente e poi sotto quindi se ne metteranno 10 qua e poi ci saranno le due carte antagoniste ok sostanzialmente voi vedete qua il weight quindi il peso che ha la vostra carta adesso qua mette ancora mille che probabilmente era il limite precedente ma adesso 1200 e quindi ti dice a sinistra quello che che hai a destra quello quello che ovviamente è il limite massimo e sotto quello che che ci manca allora sostanzialmente il wallet come ben saputo allora voi dovrete scaricarvi anche il json file e poi vi consiglio di fa di stampare o stampare sul file ovviamente il diciamo la pagina che ci sarà con l'indirizzo pubblico del vostro del vostro wallet che è esattamente questo qua ok poi c'è ovviamente anche la chiave privata la chiave privata fate stampa su file almeno siete sicuri che ce l'avete non ci sono problemi quando sostanzialmente andrà a fare un'operazione su il vostro portafoglio dovrete ovviamente andare a sbloccare il wallet e quindi in buona sostanza sbloccare il wallet vuol dire molto banalmente che è la cosa più semplice sbloccarlo con la chiave privata che abbiamo allora come dicevo una volta che vi scrivete avrete la possibilità di avere 20 carte gratis quindi vivere avverranno sostanzialmente air droppate 20 carte gratis poi una volta che voi parteciperete ai vari tornei un po per provare ovviamente ragazzi poi il nostro torneo comunque lo strutturiamo con calma perché comunque dovete anche capire come funziona il gioco fare le vostre prove eccetera qua adesso vi faccio vedere modifica deck ok e ovviamente va beh qua l'ho già fatto l'ho già fatto però come vedete ci sono 10 su 10 quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 che sono in buona sostanza quelle quelle tutte le carte e poi ci sono le carte antagonista che bisogna per forza metterne due ovviamente le carte antagoniste sono sempre quelle che ti abbassano un po il risultato tendenzialmente quindi bisogna essere bravi a mettere carte antagoniste che siano tra le migliori ad esempio vabbè qua sono tutte le carte che io posso mettere andiamo a vedere prima allora facciamo così allora queste qua sono tutte le cripto ovviamente io non le ho tutte ovviamente quindi sono tutte le cripto che io però posso mettere che sono nel mio deck ok poi a un certo punto ci sono influencer come dicevo prima io purtroppo ne ho solo quattro ho Roger Ver, ho il Cryptonomist, ho Daniel Jeffries e Amelia Tomasicchio poi vi rispiego bene il concetto delle carte poi abbiamo ah è della technology poi abbiamo il jolly che sono queste carte qua che sono carte jolly ci sono le carte technology ok quindi queste carte qua e poi ci sono le carte master dove ad esempio qua c'è Adam Beck, Eryvon, Vorir, Voris, Voris, come chiamone si chiama e Champenjao quindi il nostro si si ora torniamo sulle all ok allora cosa succede qua gli antagonisti ah no poi gli antagonisti giustamente gli antagonisti sono tutti questi qua vedete che qua grazie alla carta short siamo arrivati a 85 quindi questa qua è la strategia di cui vi parlavo prima noi abbiamo FOMO che aggiunge best of market che aggiunge tutte le altre sono negative e cosa succede che short ce la raddoppia quindi qua noi avremo sostanzialmente poco meno di 30 ok avremo 29 e 83 per dire come come somma totale e short cosa fa la raddoppia al positivo quindi va a coprire tutto negativo poi aggiungere ok i negozi possono comprare o i pacchetti oppure si possono comprare pacchetti all'aperto quindi che non si hanno poi abbiamo team e vi suggerirei ovviamente visto che poi andremo a fare le sostanzialmente anche i tornei ok vi consiglierei di scrivervi tutti a coinsquare ok quindi sostanzialmente qua adesso c'è il video il tuo team oppure c'è fai richiesta di ammissione voi poi se per caso non se per caso non andessimo già in 15 si è inserito già anche delle rio ex tra l'altro quindi probabilmente sarà andato a smanettare un po' nel c'è anche buon tizianone e boh sostanzialmente perché è importante il team e vi faccio capire molto precisamente questa cosa perché se andiamo su columbus adesso uno a caso guarda un po' io cosa ho preso che è l'ultima partita dell'ultimo torneo che è finito no sostanzialmente ho preso 29 punti più due questi due sono esattamente i punti del team quindi adesso provate a smanettarci un po' ragazzi dateci un'occhiata il gioco comunque non è difficile bisogna comunque un attimino entrare nelle meccaniche però non è difficile e per l'appunto mi piacerebbe che giocassimo tutti assieme quindi vi chiedo la cortesia appunto di iscrivervi poi direttamente a coinsquare ovviamente nel team all'interno di noku magari mandatemi via via discord magari come messaggio privato mandatemi i adesso non so probabilmente vabbè i vostri nick sicuramente ok poi magari quando ci scriviamo il torneo visto che dobbiamo fare le cose chiuse avrò bisogno anche di una vostra mail probabilmente ma adesso vediamo un attimino come la situazione vabbè iniziate a metabolizzare iniziate a gestire un attimino fatevi il vostro il vostro deck e partecipate al primo torneo questa è una cosa che vi vi consiglio tanto non costa assolutamente nulla quindi vi scrivete fate un po di esperienza che la stessa cosa bene o male ho fatto anch'io quindi ed è quello esattamente vi consiglio di fare perché secondo me è la cosa migliore il nostro portafoglio crypto che adesso diciamo è a 18.275 non siamo eccessivamente sopra però comunque abbiamo già recuperato un paio di migliaia di euro se noi guardiamo a 30 giorni come il nostro portafoglio crypto ovviamente vediamo che il nostro picco è stato a 19.232 che l'abbiamo ottenuto sostanzialmente il 7 di settembre se guardiamo a 90 giorni vediamo che il picco massimo ce l'abbiamo avuto esattamente sempre lo stesso giorno e se andiamo a guardare all abbiamo sempre lo stesso picco diciamo che ovviamente qua non siamo messi male perché comunque siamo nel terzo diciamo giorno migliore ok nel terzo momento migliore perché questo qua possiamo dire che è il secondo e questo qua ovviamente è il primo adesso che abbiamo parlato di algo probabilmente io settimana prossima ho intenzione nella prima parte della trasmissione quindi diciamo per una mezz'oretta o un'oretta di portare una persona che è un nostro moderatore che è Morse è un moderatore dell'Algorand Square sul Discord di CoinSquare dove ovviamente non sto neanche più a dirvi che dovete iscrivervi ma non ve lo dico neanche sostanzialmente se va tutto bene dovremmo averlo in live per un'oretta perché visto che dall'1 al 15 c'è l'iscrizione per la governance di Algorand e vi ricordo tutti, vabbè poi Morse ce lo spiegherà molto meglio la settimana prossima che praticamente a partire dal 31-12 o meglio a partire dal 1 gennaio non c'era più una reward da staking di Algorand ma praticamente solo chi sarà all'interno della governance potrà prendersi delle reward da staking quindi mi raccomando cercheremo di farvi capire come si vanno a mettere in governance e cosa poi succederà per cosa succederà sostanzialmente tra il 15 di ottobre e il 31 di dicembre ci saranno 3 voti da andare a fare per quanto riguarda governance ok io adesso vi saluto vi auguro una buona settimana ho già ricordato tutti gli appuntamenti di tutto quindi insomma siamo a posto vi ringrazio ancora questa sera per esserci stati e per avermi seguito mi raccomando appunto tutti gli altri che sono dei bravi guaglioni e fanno sempre un gran bel lavoro quindi andate a vedere anche loro buonanotte e la settimana prossima voglio avere i feedback vostri perché comunque ci sarà almeno due partite le avrete fatte e qui inizierete a capire un pochino come funziona un abbraccione ragazzi e mi raccomando passate una buona settimana ciao a tutti e dai dai